In queste crociere a extra lusso di massa c'è qualcosa di insopportabilmente triste. Come la maggior parte delle cose insopportabilmente tristi, sembra che abbia cause inafferrabili e complicate ed effetti semplicissimi. A bordo della nadir, soprattutto la notte, quando il divertimento organizzato, le rassicurazioni e il rumore dell'allegria cessavano, io mi sentivo disperato. Ormai è una parola abusata e banale, disperato, ma è una parola seria e la sto usando seriamente. Per me indica una semplice combinazione, uno strano desiderio di morte mescolato a un disarmante senso di piccolezza e futilità che si presenta come paura della morte. Forse si avvicina a quello che la gente chiama terrore o angoscia. Ma non è neanche questo. È più come avere il desiderio di morire per sfuggire alla sensazione insopportabile di prendere coscienza di quanto si è piccoli e deboli ed egoisti e destinati senza alcun dubbio alla morte. E viene voglia di buttarsi giù dalla nave.